ciao amici e benvenuti di nuovo nel canale questo è un video un po diverso dal solito nel senso che vado a toccare un attimino una tematica un po diciamo particolare recentemente mi è toccato di leggere e di sentire sui gruppi facebook di apicoltura frasi del tipo in cui oramai la cultura apistica passa per i social e non più per riviste di settore e mettiamoci dentro anche i libri ecco io sono rimasto un po fra lo stupito e il basito io non sono fra quelli che snobba i social network perché sono un mezzo di comunicazione potente veloce istantaneo però diciamo che sono al contempo molto caotici sono tutto il contrario di tutto e di sicuro non è da lì che passa il sapere da lì possono nascere discussioni tratte da ciò che secondo me è sapere ovvero cose scritte sui libri ricerche e quant'altro non certo il sapere parte dal social network credo che si stia veramente sopravvalutando l'importanza soprattutto da parte dei neofiti di apprendere l'apicoltura o comunque qualsiasi altra cosa in generale basandosi sui social e questo secondo me non fa altro che portare confusione tu la cultura te la fai presso un'associazione in primis seguendo un appicoltore di fiducia o magari consigliato dall'associazione stessa e leggi libri riviste e puoi guardare video di aziende e o privati che mostrano il loro modo di fare puoi trovare tantissime strade guardare documentari leggere tantissimo anche ricerchi inglesi che vedere altri modi di fare appicoltura ci sta tutto però poi sul social network può nascere la discussione di quell'argomento e è inutile negarcelo sotto dopo viene di tutto e di più e se uno è un neofita lo si confonde perché se uno dice guarda uno mette una domanda per risolvere un suo piccolo problema cioè non è che le risposte vanno verso una direzione proprio passiamo dalla a alla z nel giro di sei commenti e voi potete ben capire che questo allora non è diffondere sapere ma fare del bordello per non parlare poi dei gruppi in cui ci si scanna continuamente si assistono veramente a scene assurde quindi volevo esprimere il mio parere su questa cosa qui i gruppi sono belli ma van seguiti fino a un certo punto si può partecipare alle discussioni in maniera ironica meno ironica ma comunque restando sempre sul pezzo ma il sapere non parte dai social dei social può partire una buona linea di discussione le informazioni le si attinge da altro anche perché i gruppi sono quasi sempre per domande ripost di altre di altre fonti da cui partono le discussioni sotto e dire o affermare che le associazioni sono finite e io che lo dico sono uno di quello che proprio c'è le associazioni le repelle non è che sono proprio uno filo associativo quindi le associazioni sono importanti ma ancora più importante sono le riviste di settore e i libri quindi guardate pensate quello che volete ma io consiglio a tutti di farsi una bella libreria di libri di apicoltura ma anche la più svariata con argomenti anche particolari e in rete di libri ce ne sono tantissimi sia a pagamento che gratuiti e sul gruppo apicoltura lombarda ne sono stati messi di recente due file in pdf molto carini in inglese e poi vi invito anche a iscrivervi ad abbonarvi a una rivista io personalmente sono abbonato a due riviste da due riviste la mia preferita come vedete lapis la trovo una rivista scritta molto giovane con tantissimi punti di vista di osservazione e spunti di riflessione ci sono ricerche ogni mi sembra che ti con l'abbonamento sono previsti due dossier dedicati a una determinata come si può dire una determinata un determinato argomento specifico e poi qui vi fate un minimo di cultura anche perché se una cosa non vi torna potete scrivere alla redazione e avrete il parere di gente che ne sa senza instillare una una sorta di di conflitto se ci sono dei dubbi si scrive al giornale il giornale risponde gli esperti rispondono anche perché assolutamente chi si assume l'onere di fare una rivista prima che venga pubblicata una cazzata qui dentro cioè ci pensa tre volte non è come sui social quindi la cultura passa soprattutto dalle riviste di settore prima ancora dei social questo vorrei che sia chiaro e di riviste ce ne sono tantissime la mia preferita è questa quindi lo ammetto si sa anche perché poi molte volte succede che ci si trova pagine diciamo non tanto lecitamente fotocopiate o a cui è stata fatta la foto rimpallare nei vari gruppi abbonatevi al giornale perché poi dopo sotto questi post qui si aprono delle discussioni anche interessanti anche perché gli argomenti che vengono trattati non sono banali quindi lì c'è una vera discussione di tematiche serie allora perché non abbonarsi io dico questo e ribadisco chi ha scritto quella cosa lì che la carta stampate determinate riviste sono finite secondo me dovrebbe un attimino rivedere la faccenda perché il social è semplicemente un potente mezzo di discussione ma di per sé non genera cultura è solo un rimpallamento di argomenti fatti da terzi su cui sotto appunto ci si può discutere in maniera più o meno seria più tranquilla e meno aggressiva ma la cultura passa dai libri passa dai documentari e ahimè dalle riviste che qualcuno considera finite perché quando veramente le riviste saranno finite sarà la fine della conoscenza perché se la conoscenza è quella che si vede passare sotto certi post allora la stag associazioni dove siete serve perché bisognerebbe mettere un freno e potenziare di più quello che è la comunicazione da parte delle associazioni sui social sempre che poi non arrivi qualcuno che ti banni e allora lì c'è poco da fare perché i social vedi permettono anche quello di bannare la gente non gradita perché magari non la pensa come te mentre se su questa rivista io leggo una cosa scritta da pinco pallo e non sono d'accordo trovo una serie di mail a cui scrivere e farglielo presente e questa è un'altra bella potenzialità te l'ho detto nelle riviste c'è gente che ci mette la faccia ed è anche un lavoro e sui social dietro spesso c'è solo voglia di delle volte di creare dei grandi sapori io vi invito quindi ad abbonarvi alle riviste perché è un settore importante ed è vero che con i social è entrato forse magari un po più in crisi però abbonatevi perché ci sono articoli interessanti che poi spesso rimpalano appunto nelle pagine social e questo sì la rivista sì che è un aiuto fondamentale nella crescita di un apicoltore poi ci possono essere articoli più o meno interessanti però lì trovate ricerche esperienze e tante altre cose che sui social spesso non ci sono perché l'ottanta per cento delle domande sono domande trite ritrite con argomenti che sono sempre quelli e invito i neofiti soprattutto ad abbonarsi a queste riviste e a iscriversi alle associazioni in carne ed ossa perché questo è l'unico modo per avere una visione chiara del settore che si intende intraprendere altrimenti è più un una cozzaglia di pareri i più disperati i più disparati e questo è il mio punto di vista che può essere condiviso o meno ma sentivo il bisogno di doverlo dire abbonatevi ragazzi alle riviste comprate i libri leggete sia in formato kindle sia in formato cartaceo quello che volete ma leggete 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 solo così ci si può crescere poi una volta che avete letto potete andare sui social a discutere ma se la base di partenza è l'assenza di una buona e sana lettura schermata e volendo anche filtrata perché è giusto che le informazioni per un certo senso vengano filtrate per essere appunto comprensibili se manca questo succede poi quello che si legge sotto sotto i gruppi dove tu chiedi ma se devo spostare una cassa di 30 centimetri come posso fare arriva il tizio che ti dice che la devi portare da bologna a reggio calabria la lasci lì due anni e poi la riporti indietro a quello e che me ne frega me la sposti di 30 centimetri chi se ne frega e in mezzo c'è tutto un bel parco parco pignoni e questo adesso un po' estremizzato come esempio però in molti post è quello che succede è buono usiamoli per ampliare le discussioni magari chiedere un parere su lavorazioni o quello che è però prendeteli tutti sulle molle con le molle queste cose ma i tre pilastri che vi possono effettivamente aiutare sono la lettura che siano libero riviste un'associazione seria e valida e poi un apicoltore ai primi tempi serio e valido che vi possa dare una mano queste secondo me sono i tre pilastri fondamentali poi ognuno pensi quello che gli pare bello anche così io vi saluto scusate del pippone di quasi 12 minuti chi l'ha voluto seguire fino in fondo lo ringrazio e quegli altri ci si vede sui social ognuno pensi il dito a vero dolly questo sti è un altro adesso andare �i aspetto all